Un campo di alta pressione tra Francia e Gran Bretagna estende la sua influenza anche alle nostre regioni. Dal pomeriggio di domenica pressione in calo sulle regioni centro-meridionali per approfondimento di un'area depressionaria sulla Grecia, attivazione di un flusso di correnti freschi orientali più attivo da lunedì. In Toscana sabato 29 maggio poco nuvoloso per transito di velature progressivamente più consistenti fino a cielo molto nuvoloso, possibili rovesci pomeridiani di breve durata sull'Appennino settentrionale, venti deboli di brezza, mari poco mossi, temperature minime stazionarie massime in lieve aumento. Sul territorio provinciale da sereno a velato fino a nuvoloso coperto in serata, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 12 massima 25 gradi, in Valle del Serchio e zone montane minima 11 massima 24, a Via Regio e sul litorale minima 14 massima 21 gradi. Domenica molto nuvoloso coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, temperature massime insensibile calo.